Ultimo punto questo con il Sant'Agata perché come hai detto tu bene è una squadra attrezzata, una squadra che fa un bel gioco, era un campo difficile, noi abbiamo saputo soffrire, quasi portavamo pure i tre punti a casa al novantesimo, però va benissimo così e faccio il complimento a tutti i ragazzi che hanno fatto una grande partita. Sì abbiamo cercato di essere più solidi, da tre partite approcciamo con la giusta mentalità, con la giusta cattiveria, c'è spirito di sacrificio, questo si vede in campo, si sta vedendo nei risultati perché come stai dicendo stiamo subendo pochi gol e questo mi fa molto piacere. Sì spero che i tifosi ci vengano a dare una mano perché abbiamo bisogno di oro e affrontiamo la terza partita in una settimana, sarà dura perché recuperare ci sono pochi giorni però speriamo di fare un'ottima partita e di cercare di vincere. Hai parlato dei tifosi anche oggi di mercoledì, presenti a Sant'Agata hanno sempre seguito questa squadra. Sì i ragazzi ci sono sempre, riescono anche a poche unità a venire sempre, noi siamo andati infatti a salutarli e abbiamo ringraziati perché veramente questo è un attaccamento alla maglia e un amore incredibile.